Capitolo 22 C'è stato un fuggi-fuggi a Brutton Street. Venerdì mattina la viscontessa Bridgerton e suo figlio Benedict sono stati visti uscire di casa in tutta fretta. Mr. Bridgerton ha praticamente gettato sua madre in carrozza e i due sono partiti a rotta di collo. Francesca e Aya St. Bridgerton erano in piedi sulla porta e, come riferito da una fonte sicura, qualcuno ha sentito Francesca burbottare una parola niente affatto degna di una signorina. Ma tanta agitazione non si è registrata soltanto a casa Bridgerton. Anche i Penwood erano in uno stato di grande frenesia, culminata in una discussione tra la contessa e sua figlia, la signorina Posey Riling, avvenuta in bella vista sui gradini di ingresso. Dal momento che l'autore di queste note non ha mai apprezzato molto Lady Penwood, può soltanto esclamare, urrà per Posey! Da Le cronache mondane di Lady Whistledown, 16 giugno 1817. Faceva freddo, molto freddo, e l'attività frenetica di animaletti a quattro zampe non era affatto rassicurante, sempre che fossero davvero animaletti e non delle versioni molto più grandi e fameriche. Topi! Oddio! Gemette Sofi. Non le capitava spesso di rivolgersi al Padre Eterno, ma forse stavolta era davvero il caso di invocare il suo aiuto. Forse lui l'avrebbe sentita e avrebbe fatto sparire i topi. Sì, era proprio quello che ci voleva, un intervento divino con tuoni e fulmini di proporzioni bibliche. Lui poteva scagliare un fulmine sulla Terra, un fulmine enorme, che avrebbe diffuso i suoi tentacoli elettrici intorno al globo, friggendo all'istante tutti i topi. Era un bel sogno. Da aggiungere a quelli in cui si vedeva vivere per sempre felice e contenta accanto a Benedict Bridgerton. Un'improvvisa fitta al petto la fece sussultare. Purtroppo, fra i due sogni, lo sterminio dei ratti era il più verosimile. Era da sola adesso, completamente sola. Chissà perché quel fatto la turbava così tanto. In verità, era sempre stata sola. Da quando sua nonna l'aveva depositata sui gradini di Penwood Park, non aveva mai avuto un paladino, qualcuno che avesse a cuore il suo bene più del proprio, o anche solo quanto il proprio. Il suo stomaco cominciò a brontolare, ricordandole che adesso poteva includere anche la fame alla lunga lista di disgrazie che le erano piovute addosso. E la sete? Non le avevano portato nemmeno un goccio d'acqua. Cominciò a sognare a occhi aperti una bella tazza di tè. Fece un lungo sospiro, tenendo a mente di ispirare sempre con la bocca. Il tanfo era tremendo. Le avevano dato un pitale per i suoi bisogni, ma fino a quel momento era riuscita a trattenersi. Il pitale era stato vuotato prima che glielo buttassero dentro la cella, ma non era stato pulito, e in effetti, quando Sophie l'aveva preso in mano, era ancora umido, cosa che l'aveva spinta a posarlo immediatamente, in preda a un attacco di nausea. Lavorando come cameriera ne aveva vuotati parecchi di pitali, ma le persone per cui lavorava riuscivano generalmente a usarlo correttamente, per così dire, senza contare che non aveva potuto nemmeno lavarsi le mani. E perciò, oltre ad avere freddo, fame e sete, si sentiva sporca. Una sensazione orribile. «Avete visite!» Sophie balzò in piedi all'annuncio del secondino. Benedict era forse riuscito a scoprire dov'era, decidendo magari di venire in suo soccorso. «Bene, bene, bene!» Araminta. Sophie si sentì mancare il cuore. «Sophie Beckett!» disse ancora Araminta con voce chioccia, avvicinandosi alla sua cella con un fazzoletto davanti al naso, come se fosse lei la causa di quel tanfo. «Non avrei mai immaginato che avresti avuto l'ardire di farti vedere di nuovo a Londra!» Sophie serrò le labbra, resistendo all'impulso di reagire alla provocazione. Sapeva che era proprio ciò che Araminta si aspettava che facesse, e non voleva darle soddisfazione. «Sei messa molto male, temo!» proseguì la sua persecutrice, scuotendo la testa in una parodia della compassione. Si avvicinò alle sbarre e sussurrò. «Il giudice non ha molta simpatia per i ladri!» Sophie incrociò le braccia al petto, fissando ostinatamente il muro della cella. «Se avesse posato gli occhi su Araminta, probabilmente non avrebbe resistito alla tentazione di scagliarsi contro di lei, senza poterla raggiungere per via delle sbarre.» «Ha reagito molto male quando ha saputo dell'eclip!» «Stava dicendo intanto Araminta.» «Ma si è letteralmente infuriato quando ha saputo che avevi rubato anche la mia fede nuziale!» «No, no!» Sophie si azzittì, perché sapeva che stava per fare una scenata, e che era proprio quello che Araminta voleva. «Non l'hai rubata, vuoi dire?» fece Araminta con un sorriso maligno, agitando nell'aria l'anulare. «Non l'ho più, come puoi vedere, ed è la tua parola contro la mia!» Sophie non disse nulla. Araminta aveva ragione. Nessun giudice avrebbe dato credito alla sua parola contro quella della contessa di Penwood. «Il secondino qui dice che è improbabile che ti impicchino, perciò puoi stare tranquilla da questo punto di vista. Quello che puoi aspettarti, invece, è di essere deportata!» Sophie fu sul punto di lasciarsi andare a una mara risata. Fino al giorno prima aveva accarezzato l'idea di emigrare in America. Adesso sembrava che sarebbe dovuta partire comunque, ma per l'Australia. E in catene. «Chiederò alla corte di essere clemente, proseguì Araminta. Non voglio vederti morta. Voglio solo che tu sparisca dalla mia vista!» «Un modello di carità cristiana?» mormorò Sophie. «Sono sicura che il giudice sarà commosso.» «Penso proprio di sì!» rispose Araminta, tirandosi indietro un ciuffo di capelli che le ricadeva sulle tempie, con aria di sovrana indifferenza. La guardò e sorrise. Un sorriso duro, crudele. Improvvisamente, Sophie ebbe bisogno di sapere. «Perché mi odiate?» mormorò. Araminta rimase a fissarla per un istante. Poi disse, «Perché lui ti voleva bene.» Sophie rimase di sasso. «Non lo perdonerò mai per questo.» «Non è vero!» ribatte Sophie, scuotendo la testa. «Non gli è mai importato niente di me.» «Ti ha vestito, nutrito, e mi ha costretta a vivere con te.» «Questo non significa che mi volesse bene, solo che si sentiva in colpa. Se mi avesse voluto bene sul serio, non mi avrebbe lasciata tra le vostre grinfie. Non era stupido, doveva sapere quanto mi odiavate. E soprattutto, non mi avrebbe dimenticato nelle sue ultime volontà. «Se mi avesse voluto bene...» Araminta incrociò le braccia sul petto. «Se mi avesse voluto bene, avrebbe trovato il tempo di parlare con me. Mi avrebbe chiesto come passavo le mie giornate, se studiavo o se mi era piaciuta la colazione.» Voltò le spalle ad Araminta, con la gola stretta da un nodo. «Non mi ha mai voluto bene.» Concluse. Non sapeva nemmeno cosa fosse volere bene. Seguì un silenzio pesante, prolungato, finché Araminta disse «Voleva punirmi.» Sophie si girò a guardarla lentamente. «Perché non ero riuscita a dargli un'erede.» Le mani di Araminta furono scosse da un tremito nervoso. «Mi odiava per questo.» Sophie non seppe cosa dire. Forse non c'era proprio niente da dire. Dopo un'altra lunga pausa, la contessa mormorò. «All'inizio ti odiavo perché rappresentavi un insulto nei miei confronti. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a tenere in casa i bastardi del proprio marito.» Sophie non disse nulla. «Poi però...» Con sua grande sorpresa, Araminta si appoggiò al muro come se i ricordi l'avessero svuotata di ogni energia. «Poi però si è aggiunto un altro motivo.» Disse infine «Se aveva avuto te da chissà quale puttanella, com'era possibile che io non fossi in grado di dargli un figlio?» Sophie pensò che non valeva la pena mettersi a difendere sua madre. «Non solo ti odiavo», sussurrò Araminta. «Detestavo anche solo la tua vista.» «Per qualche ragione Sophie non fu affatto sorpresa.» «Detestavo il suono della tua voce, il fatto che avessi gli occhi come i suoi, il fatto che fossi in casa mia.» «Era anche casa mia.» Ribatte lei con calma. «Sì.» «E odiavo anche questo.» Sophie reagì duramente, guardandola dritto negli occhi. «Perché siete venuta qui? Non vi basta avere ottenuto che mi deportino in Australia?» Araminta scrollò le spalle. «Sembra che io non possa farne a meno. Mi dà troppo gusto vederti in galera. Dovrò fare un bagno di almeno tre ore per togliermi di dosso questa puzza, ma ne valeva la pena.» «Allora scusatemi se mi metto in un angolo e fingo di leggere un libro. A me non dà nessun gusto vedere voi.» Così dicendo, avanzò a passo deciso verso il traballante sgabello a tre piedi, l'unico arredo all'interno della cella, e si mise a sedere, cercando di apparire meno infelice di quanto fosse. Certo, Araminta aveva avuto la meglio, ma non l'aveva distrutta e non le avrebbe permesso di credere altrimenti. si sedette di schiena, a braccia concerte, in attesa di sentirla andar via. Ma Araminta restò. Infine, dopo dieci minuti di silenzio, Sophie balzò in piedi e gridò. «Ve ne andate?» «Mi domando come sarà l'Australia», la tormentò implacabile l'altra. «Non ci sono mai stata, ovviamente. Nessuna persona civile si sognerebbe mai di andarci. Dicono che faccia un caldo infernale. E tu, hai la pelle così bianca e delicata. Non so proprio come potrà reagire al sole di laggiù. In effetti... Ma Araminta fu interrotta da un subitaneo trambusto in fondo al corridoio. «Ma che diavolo?» esclamò, arretrando di qualche passo, per vedere cosa stava succedendo. Poi Sophie sentì una voce che le era estremamente familiare. «Benedict!» mormorò. «Che hai detto?» chiese Araminta. Ma Sophie era corsa avanti, incollando il viso alle sbarre della cella. «Fateci passare, ho detto!» intimò la voce tonante di Benedict. «Benedict!» esclamò Sophie. Aveva dimenticato di non volere che i Bridgerton la vedessero in quel contesto così degradante. Aveva dimenticato di non avere un futuro insieme a lui. Sapeva solo che era lì per lei. Se fosse riuscita a infilare la testa attraverso le sbarre, lo avrebbe fatto. Quindi, nell'aria, riecheggiò il rumore di un pugno, seguito da un tonfo sordo, probabilmente prodotto da un corpo che cadeva a terra. L'eco di una corsa nel corridoio e poi... «Benedict!» «Sophie!» «Mio Dio, stai bene!» infilò le mani attraverso le sbarre, posandole sulle sue guance. Riuscirono a scambiarsi un bacio, non di passione, ma di conforto e di sollievo. «Mr. Bridgerton!» chiese la contessa, con voce strozzata dallo sconcerto. Sophie riuscì in qualche modo a staccare lo sguardo da Benedict per osservare la reazione smarrita di Araminta. Nell'eccitazione di quel momento aveva del tutto dimenticato che la sua matrigna non era a conoscenza dei suoi rapporti con la famiglia Bridgerton. Era uno spettacolo impagabile. Forse voleva dire che era una persona meschina, che non aveva una scala di valori appropriata, ma Sophie non poteva fare a meno di godere nel vedere la faccia che fece Araminta quando la vide baciare uno dei più ambiti scapoli d'oro di Londra. Ovviamente Sophie fu anche piuttosto felice di vedere Benedict. Lui si ritrasse, dandole un'ultima carezza, e quindi si girò ad affrontare Araminta, incenerendola con lo sguardo. «Di cosa è accusata?» le chiese. Nonostante la sua avversione, Sophie era pronta ad ammettere che quella donna non era per niente una stupida, e ne ebbe una riconferma quando la vide reagire con insospettabile energia. «Forto!» esclamò la contessa, le mani sui fianchi, in atteggiamento di sfida. Giusto in quel momento sopraggiunse Lady Bridgerton. «Non posso credere che Sophie abbia fatto niente di male», disse raggiungendo suo figlio. «E non ho mai avuto la minima simpatia per voi, Lady Penwood», aggiunse con manifesta ostilità. Araminta si mise una mano sul petto, scandalizzata per quell'affronto. «Qui non si tratta di me, protestò. Si tratta di quella ragazza», disse indicando Sophie, «che ha avuto la sfrontatezza di rubare la mia fede nuziale». «Non ho mai rubato il vostro anello, lo sapete bene!» si ribellò Sophie. «L'ultima cosa che vorrei prendere tra le vostre cose è...» «E hai rubato le mie clip!» Sophie stavolta non replicò nulla e si limitò a fissarla con aria bellicosa. «Ah, visto?» fece Araminta, guardandosi intorno come per chiamare tutti a testimoni. «Una chiara ammissione di colpevolezza!» «È la vostra figliastra», le ricordò Benedict. «E voi l'avete ridotta alla disperazione, al punto che...» La reazione di Araminta fu stizzita. «Non osate più dire chi è la mia figliastra!» «Lei non è niente per me!» «Niente!» «Vi chiedo scusa!» intervenne Lady Bridgerton con considerevole autocontrollo. «Ma se davvero non significa niente per voi, come si spiega che siete venuta fin qui, in questa lurida prigione, per assicurarvi che fosse impiccata come una ladra?» Araminta fu salvata dall'arrivo del giudice, seguito da un secondino con l'aria imbronciata e, cosa ben più sorprendente, con un occhio nero. Il secondino era lo stesso che aveva allungato le mani su Sophie mentre l'accompagnava alla sua cella e lei, vedendolo, non poteva fare a meno di sorridere. «Cosa sta succedendo qui?» chiese il giudice. «Questa donna», disse Benedict con la sua voce profonda e autorevole, «ha accusato la mia fidanzata di furto!» «Fidanzata?» Sophie ebbe la prontezza di spirito di tacere, ma dovette aggrapparsi alle sbarre della cella perché stava per svenire per l'emozione. «Fidanzata?» fece eco Araminta. Il giudice squadrò con aria critica Benedict. «E voi chi siete precisamente?» domandò, conscio di avere a che fare con qualcuno di importante, ma che non era ancora riuscito a identificare. Benedict incrociò le braccia sul petto e gli disse il proprio nome. Il giudice impallidì. «Siete per caso parente del visconte?» «È mio fratello». «E lei?» «Lei è la vostra fidanzata?» chiese ancora il giudice indicando incredulo Sophie. Lei intanto credeva di sognare e temeva di risvegliarsi bruscamente da un momento all'altro. Ma non accadde niente del genere. Vide invece Lady Bridgerton a sentire con il capo. «Non potete sposarla!» intervenne Araminta. Benedict si girò verso sua madre. «C'è qualche motivo per cui dovrei consultarmi con Lady Penwood su questo argomento?» «Non credo proprio», rispose Lady Bridgerton. «Non è che una puttanella!» si bilò Araminta. «Come sua madre! Buon sangue non mente!» «Oh!» Benedict l'ha prese per il collo prima che qualcuno dei presenti potesse reagire. «Non vi azzardate mai più!» ringhiò. Il giudice allora batté su una spalla di Benedict dicendo «Dovreste proprio lasciarla andare, sapete?» «Non posso nemmeno imbavagliarla!» Il giudice parve combattuto ma alla fine fece cenno di no con la testa. Con evidente riluttanza Benedict allentò la stretta intorno al collo di Araminta. «Se la sposerete!» disse quest'ultima strofinandosi la gola. «Mi assicurerò che tutti sappiano esattamente chi è la figlia bastarda di una puttana!» Il giudice guardò Araminta con espressione severa. «Vi prego di moderare i termini!» «Vi garantisco che non è mia abitudine esprimermi in questo modo» rispose con aria sprezzante «Ma le circostanze lo richiedono!» Sophie si morse le nocche delle mani mentre guardava Benedict che apriva e chiudeva i pugni con fare minaccioso evidentemente a suo parere le circostanze lo richiedevano il giudice si schiarì la gola la accusate di un crimine molto grave poi deglutì e sta per sposare un Bridgerton «Io sono la contessa di Penwood!» ribatte lei con voce stridula «Contessa!» L'uomo passò in rassegna tutti i presenti in quanto contessa Araminta aveva un rango superiore a tutti loro ma allo stesso tempo era sola contro due Bridgerton uno dei quali molto robusto e palesemente furioso inoltre aveva già preso a pugni il secondino «Mi ha derubata!» «No! Siete voi ad averla derubata!» ruggì Benedict all'improvviso nella stanza calò il silenzio «L'avete derubata della sua infanzia!» aggiunse fremente di rabbia non conosceva a fondo la vita di Sophie ma in qualche modo sapeva che quella donna era la causa di gran parte del dolore che si celava dietro i suoi occhi verdi ed era pronto a scommettere che il suo caro e defunto padre era responsabile del resto quindi si rivolse al giudice e disse «La mia fidanzata è figlia illegittima del defunto conte di Penwood ed è per questo che la vedova del conte l'ha falsamente accusata di furto per un astio profondo accumulato negli anni e per desiderio di vendetta il giudice guardò Benedict guardò Araminta e infine si rivolse a Sophie è così siete stata accusata ingiustamente mi ha preso le clip strillò Araminta lo giuro sulla tomba di mio marito oh per l'amor del cielo mamma smettila ho preso io le tue clip Sophie rimase a bocca aperta riconoscendo quella voce così Benedict guardò prima la nuova venuta una ragazza piuttosto bassa e paffutella che doveva essere senza dubbio la figlia della contessa e poi Sophie che era pallida come un cencio fila via si bilò Araminta non c'entri niente tu sì che c'entra obiettò il giudice se è vero che ha preso lei le clip volete esporgere denuncia contro di lei è mia figlia mettetemi in cella con Sophie esclamò Pose in tono teatrale se deve essere deportata in Australia per furto allora devo esserlo anch'io per la prima volta dopo molti giorni Benedict non pote fare a meno di sorridere il secondino tirò fuori le sue chiavi che devo fare chiese rivolto al giudice mettile via rispose seccamente l'interpellato non possiamo incarcerare la figlia della contessa no tenetele a portata di mano intervenne Lady Bridgerton voglio che la mia futura nuora sia liberata immediatamente il secondino guardò incerto il giudice va bene disse quello puntando il dito indice in direzione di Sophie falla uscire ma nessuno andrà da nessuna parte finché non avrò capito come stanno veramente le cose Aramenta cercò di protestare ma Sophie fu liberata si slanciò verso Benedict però il giudice la fermò alzando un braccio non ancora ammonì niente baci abbracci finché non avrò capito chi devo arrestare non dovete arrestare nessuno disse Benedict la la deporteranno in Australia gridò Araminta indicando Sophie rinchiudete mincella esclamò posi con un sospiro portandosi il dorso della mano alla fronte sono stata io posi vuoi stare zitta sussurrò Sophie credimi la prigione è orribile e ci sono i topi a quel punto la ragazza fece un passo indietro non riceverete più un solo invito in questa città disse Lady Bridgerton rivolta ad Araminta io sono una contessa sibilo lei e io sono più popolare ribatte Lady Bridgerton certe malignità non erano da lei tanto che sia Benedict che Sophie restarono a bocca aperta silenzio intimò il giudice quindi si rivolse a Posy e indicando Araminta le chiese è vostra madre Posy annui e siete stata voi a rubare le clip Posy assentì di nuovo e nessuno le ha rubato la fede nuziale è a casa dentro il suo cofanetto portagioie Araminta insorse non è vero non c'è è nell'altro cofanetto chi ha riposi quello che tieni nel terzo cassetto da sinistra del comò Araminta impallidì il giudice le disse Lady Penwood mi sembra che la vostra denuncia contro Miss Beckett non stia molto in piedi Araminta cominciò a tremare di rabbia mentre puntava un dito contro Sofi è una ladra l'accusò e mia figlia è una bugiarda non so perché e non so proprio cosa speri di ottenere ma mente il disagio di Sofi cresceva intanto di minuto in minuto Posi l'avrebbe pagata molto cara quando fosse tornata a casa Araminta era stata umiliata in pubblico per causa sua e c'era da aver paura pensando a come avrebbe reagito Sofi non poteva accettare che Posi si sacrificasse per lei fino a questo punto Posi non cominciò a dire ma non pote finire la frase perché le assestò una gomitata nello stomaco una gomitata così forte che la lasciò letteralmente senza fiato stavate dicendo qualcosa fece il magistrato Sofi scosse il capo totalmente incapace di parlare il giudice sospirò con aria stanca passandosi una mano tra i radi capelli chiari guardò Posi Sofi poi Araminta e infine Benedict Lady Bridgerton si schiarì la gola costringendolo a guardare anche lei Chiaramente questa faccenda è molto più complessa di quanto non appaia è evidente che vi detestate e mi piacerebbe sapere perché prima di andare avanti e di incriminare qualcuno Parlate voi per prima disse rivolgendosi a Sofi Quel che lui ha detto è esatto disse Sofi che aveva intanto ripreso fiato facendo un cenno in direzione di Benedict Sono la figlia del conte di Penwood anche se non sono mai stata riconosciuta Ho vissuto a Penwood Park per sette anni prima che lei sposasse il conte proseguì facendo un cenno questa volta verso Araminta Il conte diceva di essere il mio tutore ma tutti sapevano la verità anche perché a detta di tutti gli somiglio molto Conoscevo tuo padre intervenne Lady Bridgerton e anche tua zia questo spiega perché ho sempre pensato che avessi un'aria molto familiare Sofi le rivolse un sorriso grato il tono di Lady Bridgerton era molto confortante e la rincuorava prego continui disse il giudice Sofi annui quando il conte ha sposato la contessa lei non voleva che vivessi lì ma il conte è stato irremovibile lo vedevo di rado e credo che non avesse una grande opinione di me comunque si sentiva responsabile nei miei confronti e non avrebbe permesso che mi cacciassero di casa quando è morto si interruppe ed eglutì cercando di parlare malgrado il nodo in gola non aveva mai raccontato la sua storia a nessuno prima di allora quelle parole sembravano estranee sulla sua bocca quando è morto continuò ha lasciato scritto nel testamento che la rendita di Lady Penwood sarebbe stata triplicata se mi avesse tenuta con sé finché non avessi compiuto vent'anni lei ha rispettato le disposizioni testamentarie ma la mia situazione è cambiata radicalmente sono diventata una serva anzi una schiava perché non mi pagavano nemmeno guardò Araminta che se ne stava lì con le braccia conserte e un'aria sprezzante aveva le labbra serrate ed un tratto Sophie pensò a quante volte aveva visto quell'espressione sul suo volto più di quante ne riuscisse a contare abbastanza da distruggerla eppure era ancora lì sporca e senza un soldo certo ma ancora integra nella mente e nello spirito Sophie chiese benedict scrutandola con preoccupazione va tutto bene lei annui lentamente perché stava cominciando a rendersi conto che in effetti sì andava tutto bene l'uomo che amava le aveva appena chiesto di sposarlo seppure in modo un po' contorto Araminta stava finalmente per ricevere la battosta che si meritava e oltretutto per mano dei Bridgerton che l'avrebbero fatta a brandelli e Posy forse quella era la cosa più bella Posy che si era sempre comportata come una sorella con lei che non aveva mai avuto il coraggio di essere se stessa adesso aveva tenuto testa a sua madre e risolto la situazione era sicura al cento per cento che se non fosse arrivato Benedict a dichiarare che era la sua fidanzata solo la testimonianza di Posy avrebbe potuto salvarla dalla deportazione o magari anche da un'esecuzione e Sophie sapeva più di chiunque altro che la ragazza l'avrebbe pagata cara per il coraggio dimostrato probabilmente Araminta stava già studiando il modo di rendere la sua vita un inferno sì andava tutto bene e si rese conto di avere acquisito sicurezza quando disse lasciate che finisca la mia storia dopo la morte del conte Lady Penwood mi ha tenuto con sé nel ruolo di cameriera non pagata anche se in realtà dovevo fare il lavoro di tre persone Lady e proprio di no proruppe Benedict Sophie guardò il giudice e vedendolo annuire proseguì forse si divertiva ad avere qualcuno da bistrattare una cameriera che non le costava un soldo e io mi sono dovuta adattare perché mio padre non mi aveva lasciato niente nel suo testamento non è vero esclamò Posi Sophie la guardò sorpresa ti ha lasciato una somma di denaro Sophie cadde letteralmente dalle nuvole non è possibile non avevo niente mio padre ha provveduto al mio mantenimento fino all'età di vent'anni dopodiché dopo di che aveva messo a tua disposizione una dote una dote non è vero strillò Araminta sì invece insiste Posi mi dispiace mamma ma hai commesso lo sbaglio di lasciare in giro una prova capace di inchiodarti l'anno scorso ho trovato una copia del testamento del conte e l'ho letta era nello stesso cofanetto dove hai nascosto la tua fede nuziale avete rubato la mia dote mormorò Sophie per tutti quegli anni aveva pensato che suo padre l'avesse lasciata senza niente sapeva che non aveva grande considerazione di lei che la giudicava poco più di un dovere da assolvere ma le bruciava che avesse lasciato una dote per Rosamond e Posi che non avevano nemmeno il suo stesso sangue e non per lei non aveva mai creduto però che suo padre le avesse fatto quello sgarbo di proposito piuttosto aveva pensato a una semplice dimenticanza il che era forse anche peggio mi ha lasciato una dote disse ancora stordita e rivolgendosi a Benedict ripete ho una dote non mi interessa la tua dote rispose Benedict non ne ho bisogno ma a me sì pensavo che si fosse dimenticato di me per tutti questi anni ho pensato che non mi avesse menzionata nel testamento so che non avrebbe potuto lasciare dei soldi a una figlia illegittima ma aveva detto a tutti che ero la sua protetta non c'era motivo che gli impedisse di provvedere alla sua protetta per qualche ragione guardò Lady Bridgerton è una cosa normale il giudice si schiarì la gola e chiese ad Araminta allora che fine ha fatto questa dote Araminta non disse nulla Lady Bridgerton si schiarì a sua volta la gola non mi sembra era molto legale disse sottrarre la dote a una ragazza in età da marito sorrise con aria molto soddisfatta vero Araminta e grazie a tutti